Questa è la vostra vittoria, avete fatto tutto voi. E' la vittoria della Noci che vuole fare corse grandiose. Questo è il problema che vi ho sentito vicini all'inizio. Siete stati quello che ogni candidato, ma ogni persona, desidererebbe nella sua vita. Le persone su cui contare. Io conto su di voi oggi, conterò su di voi domani. Avremo tanto, tanto, tanto da fare. Voi dovete aiutarsi. Dovrete essere protagonisti. Faremo tutto per Noci. Metteremo tutto quello che non è l'interesse dei Noci a lato. E faremo di questa città quello che è sempre stato. Ciò che ci ha reso orgogliosi di essere Noci. Grazie a te, grazie a te. Francesco! 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 Francesco!